Siamo a Fano, all'Associazione Culturale Il Sentiero dell'Anima. Qui con noi c'è Giulia Bellucci che condurrà un laboratorio teatrale. Ci vuoi parlare di questo laboratorio teatrale? Sì, il laboratorio si terrà qui ogni giovedì ed è un avvicinamento al teatro in realtà per i neofiti, per coloro che non hanno mai avuto esperienze teatrali e che quindi potranno in questo modo curiosare ed avvicinarsi. In questo caso il teatro diventa specifico strumento e veicolo per l'ascolto di se stessi e degli altri, per cui è più un viaggio interiore piuttosto che professionalizzante. Ogni giovedì qua dalle 18.30 alle 20, tranne nella settimana delle Porte Aperte, che sarà qui all'interno del centro dal 1 ottobre al 7, dove tutti gli esperti daranno la propria esibizione dei propri laboratori, quando la settimana, la giornata di prova del teatro sarà invece il 4 ottobre dalle 17.30 alle 18.30 e non della 18.30. Vi aspettiamo! Arrivederci!